I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I, I'm a lead, and when they lay me down the rap, I know I was always rapping Bello ragazzuoli, oggi siamo qui con questo nuovo video dal vostro Dacaso Nota 2 e come sempre con il signor RDT Ciao Per farvi vedere i luoghi diversi dove ovviamente usare quella cosa di lancio lì che si dice là, come si chiama? I dischi, ecco i dischi, bravo Ok, vi faremo vedere tutti e cinque i punti dove potrete trovarli, ovviamente mi sa che ce ne sono molti di più di cinque Però io ve ne faccio vedere cinque così almeno voi già sapete i punti esatti dove sono Ci vediamo direttamente al primo punto Eccoci qua ragazzi, abbiamo trovato il primo punto, dopo trent'anni però dettagli Ok, il primo punto si trova precisamente in questo posto qua Ok? Eh cacchio mi sono cagato addosso Basta che cliccate su attiva e poi aspettate che la paperella spara Vabbè anche quelli frisbee li dovete sparare E il primo punto è qua, ci vediamo al prossimo punto Eccoci qua ragazzuoli Al secondo disco che si trova precisamente qui ragazzi Vedete? Sopra il rifugio ritirato, questo punto qui esatto Si trova precisamente qui Ok? Ci vediamo al terzo punto Con il signore RDT che qui fa le belle cose lì Ci vediamo al terzo punto ragazzi, a tra poco Ok, eccoci qua ragazzuoli Al terzo disco volante Dove potete trovarlo? Questo posto è precisamente Vicino Rapide Vicino Tometo Questo è il punto dove c'è il ponte Al lato del ponte Precisamente Qui Ok ragazzi Ci vediamo al quarto punto Del disco volante Bella ragazzuoli, a tra poco Eccoci qua al quarto E dico quarto punto Del disco volante Ovviamente ragazzuoli Questi punti sono tutti giusti Noi ve li stiamo facendo vedere Io e RDT Su Parco giochi ovviamente Perché farveli vedere In gioco è praticamente impossibile Dato che la maggior parte delle volte I player ci killano Ma non per qualcosa Perché stiamo fermi comunque a farvelo vedere Quindi è molto meglio farlo su parco giochi Niente ragazzuoli Ci vediamo al quinto E dico quinto punto Al quinto E bravissimo Il tuo record è uno Ci vediamo al quinto punto ragazzi A tra pochissimo Bella Siamo precisamente al quinto punto Qui si trova Dove sta Condotti Aspetta vedete pure la sedia Ecco non me l'ho manco accorto Qua ci sta la sedia Dove il punto esatto Ovviamente sotto Condotti Dovrebbe essere qui il punto esatto Ok dove ci sta R RDT qua ragazzi Questo è il punto preciso Identico Preciso No identico Preciso Dove si trova il quinto Il quinto disco volante ragazzi Per questa guida è tutto Ovviamente io Ed RDT Vi salutiamo Bella E mi raccomando Di lasciate tanti like Mi raccomando Perché è importante Poi Vi lascerò in descrizione Il link del signore RDT Così ci passate Anche se lui ha più di 100.000 iscritti Però dettagli E E niente Vi auguriamo Una buona giornata Buona guida Buona sfide Buone sfide a tutti E mi raccomando Di andare a guardare Anche l'altro video Che ho caricato insieme a questo Che Che Dove si trova il tesoro Del Laboratorio Della latrina Mi raccomando Bella a tutti Ciao 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 Grazie per la visione!